comunque su mixer ce ne sono molte lo stanno facendo adesso ma provo a entrare su youtube vai su youtube nel mio profilo giorgio giorgio urbi eh ma provo non so come si avvia youtube allora vabbè non mi interessa questo che palle oggi che eravamo riusciti a fare la cazzo di di cosa ehi era fatto tutto ma perché il mix mi sono svegliato ho fatto ho messo subito il codice e poi sono uscito figurati no ascolta facciamo una vabbè proviamo su youtube hai la foto di scorpion si prova video una visualizzazione mi vedi aspetta anche se quella era però di dieci minuti fa ah questo è dal vivo anche se mi sembra che youtube sia un po' ti vedo però però tutti però si vede male aspetta si altro fammi vedere se è la mia qualità eh grazie me l'ha messo a 480p mi vedi mi vedi ti vedo 1080 adesso dovrei vederti già meglio vabbè il ritardo ascolto te in cuffia perché il ritardo del video è allucinante eh no è una merda così però cioè tipo dove sono sono nel menu di creazione del personaggio sì 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 no quello ci sta è solo la voce cioè figurati che adesso mi stai ancora chiedendo se mi vedi tu minchia no non si può così ascolta facciamo una cosa provo a riavviare il computer no ma no non cambia niente ma vabbè sto muovendo su e giù no no allora no allora no no è molto dopo ma scopri sta un pochino andando avanti eh nel senso che si sta riducendo l'intervallo che c'è sì piano piano sì adesso ti vedo andare su e giù sono sto inserendo il nome eh non ancora mi stai chiedendo se stai muovendo su e giù dimmi quando inizi a inserire il nome eh io c'è ancora no no non lo stai ancora facendo eh no che cazzo ci sono 10 secondi di lag è impossibile di più di più l'ho inserito no no vabbè no così non trasmetto è impossibile ok ora è scritto burdaccio sì ma cioè non è possibile ma l'hai messo cioè l'hai scritto adesso facciamo una cosa facciamo una cosa provo a far vedere adesso mi stai dicendo che ci sono 10 secondi di lag no 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 così no ascolta riesco e provo a facciamo un'altra cosa ok sono uscito dalla dalla youtube sì sì vabbè così no lo stavo già vedendo io prima che era cioè troppo quindi